Una delle tante eccellenze del mezzogiorno, la sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale, con sede a Napoli, è stata il primo Ateneo Teologico d'Italia e tra i primi enti accademici in assoluto ad avviare, fin dagli inizi di marzo, le attività di didattica a distanza. Il giorno precedente all'ordinanza ministeriale abbiamo avuto l'ultimo consiglio di facoltà ed eravamo già preparati per l'aria che tirava a passare dalla didattica frontale alla didattica online, il che è avvenuto il giorno dopo. Ci siamo subiti attivati a fare le prime convocazioni o riunioni di aula virtuale per fare lezioni. e in collegamento con tutti quelli che sono stati invitati che hanno un codice di riunione e si comincia con la lezione. L'unica differenza è che invece di vedersi di faccia viso a viso, ci si vede di faccia in maniera virtuale. Una iniziativa senza precedenti che ha portato frutti in tempi rapidi con il trasferimento in aula virtuale di oltre il 90% delle attività didattiche in pochi giorni. Siamo stati la prima facoltà a mettere in atto queste lezioni e fin da subito i professori non ci hanno fatto mancare il loro insegnamento, quindi credo che siano state molto importanti. All'inizio eravamo tutti un po' preoccupati, però poi abbiamo accolto questa nuova esperienza e credo che si sia comunque creata una forma di contatto con i professori e con gli studenti. Una forma di contatto inusuale, però anche molto particolare perché ci ha permesso di scoprire un metodo alternativo che non è stato per nulla dispersivo ma che ci ha coinvolto molto. Ad alunni e professori mancheranno di certo il contatto diretto, il calore dell'incontro personale, l'incantevole panorama della collina di Capodimonte su cui sorge la sezione San Tommaso. Ma la capacità di organizzare al meglio la didattica in piena emergenza in tempi record è un grande segnale di speranza e di resurrezione per la Pasqua appena passata e per il futuro del Paese. In una delle prime lezioni online mi toccava da programma di filosofia teoretica 2 affrontare una questione molto rilevante della filosofia del Novecento, cioè Dio permette o vuole il male. È capitato a puntino in questi giorni di Covid-19 domandarsi la pandemia, le tante morti, gli isolamenti sono stati voluti dal Creatore, dal Padre Eterno, c'entra lui con questo male o meno. Tommaso d'Aguino, che è l'autore a cui ci ispiriamo e a cui mi ispiro particolarmente in filosofia teoretica, ha una sua precisa risposta. Dio non vuole il male di ciò che egli stesso ha creato, vuole sempre il bene. Se permette il male, lo permette solamente perché ha fatto le creature come delle cause seconde che possono provocare il male. Tra le creature ci sono anche i virus.